Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi parliamo niente meno che della nascita degli scacchi. Una leggenda, quella della nascita degli scacchi, che vede come protagonista un bramino. Infatti, secondo la leggenda, l'inventore degli scacchi fu il bramino Sissa, maestro di un principe. E vi racconto questa storia perché ci insegna come il successo del comandante deriva dalla giusta armonia tra lui ed i suoi sottoposti, così come il re degli scacchi. Per quanto il più importante di tutta la scacchiera non può che perdere senza l'appoggio dei pedoni e degli altri pezzi. Questo è l'insegnamento di oggi, la motivazione per oggi. Saper guardare le cose nella giusta prospettiva complessiva, nel loro andamento complessivo, cercando di vedere il tutto insieme e non soltanto il singolo pezzo, ma tutta la scacchiera, cercando di vedere come la situazione nel suo complesso si sta armonizzando o si può armonizzare. Ecco la leggenda che ci mostra anche una certa sagacia, nonché scaltrezza matematica ed economica, del nostro bramino. Un giorno il principe fu informato che un giovane bramino, umile e povero, chiedeva di essere ricevuto. In realtà aveva già fatto questa richiesta diverse volte, ma il principe aveva sempre rifiutato, sostenendo che il suo spirito non era abbastanza forte da permettergli di ricevere visite. Tuttavia questa volta gli concesse udienza e ordinò che il giovane straniero venisse condotto al suo cospetto. Una volta giunto alla sala del trono, il bramino Sissa fu interrogato, secondo le regole del cerimoniale, da uno dei nobili del principe. Chi sei? Da dove vieni? Cosa desideri da colui che, per volere di Vishnu, è principe e signore di Taligana? Mi chiamo Lahur Sissa, rispose il giovane bramino e vengo dal villaggio di Namir, a trenta giorni di cammino da questa bella città. Abbiamo avuto notizia, laddove vivo, che il nostro re è afflitto da profondo dolore, che egli è amareggiato dalla perdita del figlio che gli fu strappato nelle vicende della guerra. È terribile, mi sono detto, che il nostro nobile sovrano si isoli completamente nel suo palazzo, come un cieco bramino che si abbandona alla sua pena. Ho quindi pensato che sarebbe quanto mai opportuno inventare un gioco che possa distrarlo e aprire il suo cuore a nuovi piaceri. È questo l'umile dono che reco al nostro principe, Yadava. Sissa mise davanti al principe una tavola, divisa in sessantaquattro caselle di uguali dimensioni. Su di essa erano disposti due gruppi di pezzi, gli uni bianchi e gli altri neri. Le figure di questi pezzi erano allineate simmetricamente sulla scacchiera e vi erano strane regole che governavano i loro movimenti. Il principe Yadava fu molto interessato alle regole del gioco e si mise a far domande all'inventore. Ad un certo punto notò con grande sorpresa che i pezzi, dopo tutte le mosse fatte, erano spiegati esattamente come nella battaglia di Daxina. Osserva, gli disse allora il giovane Bramino che per vincere la battaglia questo nobile guerriero deve sacrificarsi. Egli indicò proprio il pezzo che il principe aveva posto a capo delle schiere impegnate nel cuore della lotta. Il saggio Sissa volle così mostrare che talvolta la morte di un principe è necessaria per assicurare pace e libertà al suo popolo. Udendo queste parole, il principe Yadava esclamò, dimmi allora cosa desideri tra ciò che sono in grado di darti, così potrai vedere quanto grande può essere la mia riconoscenza verso coloro che lo meritano. Il Bramino Sissa disse che non voleva alcuna ricompensa perché la sua felicità consisteva nell'averlo guarito. Il principe sorrise e incapace di credere alla sincerità del giovane Bramino insistette. Rifiutare la mia offerta sarebbe non solo una scortesia ma una disobbedienza. Il Bramino Sissa, allora, per non essere scortese, chiese di essere pagato in chicchi di grano. Il principe, stupito dalla strana moneta, chiese in quale modo potesse ricompensarlo. È facilissimo, spiegò Sissa. Mi darai un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due per la seconda, quattro per la terza, otto per la quarta e così via, raddoppiando la quantità ad ogni casella fino alla sessantaquattresima e ultima. Il principe rise di questa richiesta dicendogli che poteva avere qualunque cosa e invece si accontentava di pochi chicchi di grano. Ma il giorno dopo i matematici di corte andarono dal principe e gli dissero che per adempiere alla richiesta del monaco non sarebbero bastati i raccolti di tutto il regno per 800 anni. La Ur Sissa aveva voluto in questo modo insegnare al principe che una richiesta apparentemente modesta poteva nascondere un costo enorme. Comunque, una volta che il principe lo ebbe capito, il Bramino ritirò la sua richiesta e divenne il governatore di una delle province del regno. La soluzione matematica alla fine di questa leggenda rispetto alla richiesta di Sissa è che, calcolando il numero dei chicchi promessi, si trattava di pagare al furbo Bramino ben due alla sessantacinquesima meno uno chicchi. Cioè la somma di uno più due più due alla seconda più due alla terza eccetera eccetera fino a più due alla sessantaquattresima equivalenti a, sentite un po' che scala di valore, una quantità tale che, come avete sentito, i raccolti di tutto il mondo, non soltanto del regno, non bastavano a soddisfare. Beh, questa beffa simpatica e ironica del Bramino Sissa rispetto alla pretesa del principe, tipicamente presuntuosa come tutte le pretese principesche, insegna lo stesso concetto dell'invenzione degli scacchi. Mai, mai, mai fermarsi alla prima valutazione delle cose. Mai guardare di conseguenza soltanto il singolo pezzo senza ampliare la propria prospettiva e il proprio sguardo su tutto il complesso in cui quel singolo pezzo è collocato. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani, per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Grazie a tutti!